Si dà avviso che la circolazione dei treni tra Ragusa e Ragusa Ipla è temporaneamente sospesa per rinvenimento ordigno bellico tra le stazioni di Ragusa e Ragusa Ipla. Si invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci sonori. Si dà avviso che la circolazione dei treni tra Ragusa e Ragusa Ipla è temporaneamente sospesa per rinvenimento ordigno bellico tra le stazioni di Ragusa e Ragusa Ipla. Si invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci sonori.